Verranno avviati a fine estate i lavori per la messa in sicurezza e ampliamento del porto di Giulianova. Ad annunciarlo è stato il sottosegretario alla presidenza regionale Umberto D'Annuntis durante l'incontro organizzato dal presidente del Consiglio Comunale Giuliese, Matteo Francioni, alla quale hanno preso parte oltre 200 persone. Parliamo di 3,8 milioni di euro, sono dei fondi destinati al prolungamento del Molo Nord e alla rifiutura delle scogliere del Molo Sud. E' importante comunque vedere come la regione Abruzzo, il governo regionale di centro-destra della regione Abruzzo sia stata molto attenta e abbia destinato tante risorse, tanta attenzione, tanta disponibilità per il nostro porto e lo abbiamo visto anche con l'approvazione del nuovo piano regolatore portuale di marzo 2023, uno strumento strategico per lo sviluppo dell'infrastruttura portuale che si attendeva da tantissimo tempo. Oggi il porto è più dinamico, più efficiente, sicuramente più attrattivo e lo si vede già dalle tante manifestazioni messe in campo, da tanta gente che vuole investire sul porto e che comunque è sollecitata in tal senso. Mentre per quanto riguarda il Molo Sud, il progetto per un porto di oltre 290.000 euro prevede il ripristino del tratto più esposto e deteriorato con elementi in calcestruzzo per la ricostruzione della sagoma originaria. Da quello che ci dicono gli uffici regionali, i lavori dovrebbero iniziare a settembre, diciamo tra settembre e ottobre, quindi si stanno terminando le ultime formalità. Ci auguriamo appunto che poi dall'inizio ci siano quei 120 giorni circa i lavori dovrebbero essere ultimati e quindi anche quello che si attende ormai da qualche tempo potrà essere concluso un intervento importante che dà ulteriore slancio all'infrastruttura portuale. Grazie a tutti.